Tanto tuonò che piove. Il Crotone ha finalmente il suo allenatore da Serie A. Davide Nicola ha sciolto anche le ultime riserve ed al contrario dei colleghi De Zerbi e Grosso ha accettato l'offerta del club pitagorico. Sarà lui l'erede di Ivan Juric sulla panchina rosso-blu nel primo storico anno in massima serie. Ad annunciarlo direttamente il presidente del club di Pitagora, Raffaele Vrenna. È stata una scelta ponderata, ha sottolineato il patron, anche perché fa lo stesso tipo di gioco di Ivan Juric. È la scelta migliore, ha chiusato Vrenna, per puntare alla salvezza. Nicola ha firmato un contratto fino a giugno 2017 con rinnovo automatico per altre due stagioni in caso di mantenimento di categoria. Come si legge sul sito ufficiale del Crotone, Nicola ha prendere in mano le redine della squadra dal primo di luglio, ma nelle prossime ore, probabilmente già sabato o al massimo lunedì, il nuovo allenatore pitagorico verrà presentato ufficialmente in una conferenza stampa. Alessio Bonpasso per la Cineus24.